Ciao ragazzi, breve video, cioè breve spiegazione prima di far partire il video in sé voglio solo dirvi che parto un paio di giorni al mare quindi non ci saranno video nuovi e quando tornerò comincerò, diciamo, farò un piccolo vlog per spiegarvi cosa succederà nel canale cosa succederà anche in quello secondario e dopodiché potrò riprendere tranquillamente con i video da lunedì prossimo solamente che avrò un po' la scuola ma questo ve lo spiegherò meglio più avanti ok, godetevi il video, buone vacanze, ci rivediamo poi quando torno, ciao! ciao a tutti ragazzi, qui è Nico e con me c'è Teo c'è Teo, aspettate che avevo fatto partire il video ma non l'avevo messo in widescreen ed eccoci qui con Catwoman siamo con Catwoman, parte numero 15, come possiamo notare questa parte sarebbe la parte numero 15 ma per me sarebbe la 14 allora vi spiego un pochettino la parte e intanto Nicolas chiuderà la pagina facebook la famosissima, vaffanculo, lasciamo perdere la pagina facebook, intanto non è seguita per un cazzo quindi è inutile lasciarla aperta a marcire siccome non sappiamo come si chiudono le pagine facebook andremo su google a cercarlo giusto ok, vai ho trovato come si aggiustano le pagine facebook chiudono allora, vi spiego un pochettino questa parte in questa parte Catwoman deve tornare al suo appartamento a recuperare le sue cose e andarsene via ad arkham si dà un'esplosione, la colpisce e rimane mi dispiace chiuderla ma chiudila e non rompere i coglioni ah, è lì la mia pagina c'era non l'avevo mica letto dopo tre anni, due anni due anni siamo sicuri ma lo sai che il 12 aprile abbiamo fatto due anni con Warthrog si e non abbiamo neanche parlato e non venirò manco accorto vabbè fatto sta che Catwoman deve tornare al suo appartamento a recuperare i suoi oggetti e scapparsene da arkham city per ritornarsene credo a gotham oppure andarsene via però c'è successo qualcosa un'esplosione ha colpito il suo appartamento quindi deve recuperare in qualche modo i suoi oggetti dobbiamo attaccare questi quattro deficienti che li mettiamo capo in 43 secondi e colpito e adesso scopriremo vai chiudiamo la pagina elimina pagina poi un countdown con una voce sexy 3, 2, 1 ok pagina elimina cosa? cos'è? ma dai cazzo non puoi eliminarla subito ok no comunque parte di scherzi tra 14 giorni la nostra pagina verrà eliminata noi almeno Nicolas come vi ho detto in una parte precedente sostituirà questa pagina facebook con un account twitter e magari poi successivamente una pagina proprio dedicata a policonzzzzzz ma magari no una pagina facebook magari un canale twitch tv invece di ma perché devi fare le dirette? eh ogni tanto potremmo farle ovvio si però deve esserci qualcosa su facebook tutti lo usano tutti ci devono seguire per me facebook è morto non ci costa quasi nessuno bello sto dire si è fatto bene e quindi ora dovremmo avete visto questo piccolo taglio dovremmo andare al museo a recuperare i nostri oggetti da due facce e una cosa da dire in questa parte ho fatto un piccolo editing nella parte precedente dopo che Joker è morto e quindi il gioco si può dire finito quando c'è stata quella parte nera finale dopo che Batman ha appoggiato il corpo di Joker sulla macchina ci sarebbero stati i titoli di coda ma siccome preferisco andare avanti nel gioco ho messo prima questa parte nel senso questa di Catwoman e poi ho messo i titoli di coda non saranno tutti i titoli di coda ne ho messo fino a un certo punto perché poi il pc stava esplodendo e ho dovuto stopparli però ci sono per far vedere anche che li lasciamo ormai i titoli di coda vabbè intanto come abbiamo già deciso prima parleremo un po' sui titoli di coda parleremo un po' sui titoli di coda e si volevo anche avvisarvi che da settembre incominceranno moltissime guide sicuramente ci saranno quattro guide diverse che poi devo ancora non contemporaneamente o contemporaneamente o non dipende sempre quando riesco a registrare un video o quando l'altro si e intanto poi ti devo anche dire a te quali saranno le guide così almeno sei felice non piangi ok fine e in questa parte volevamo fare magari delle piccole considerazioni su batman arkham 3 si ovviamente abbiamo letto su vari forum e vari vari siti vari siti web site è probabile una varia uscita una un'uscita di batman arkham 3 perché da quello che ho capito il doppiatore di joker della voce di joker ha detto che ha lavorato sul nuovo gioco non ha annunciato il titolo ma ha detto che c'è un numero nel gioco quindi probabilmente potrebbe essere anche batman arkham 3 ovviamente diciamo batman arkham 3 perché c'è stato arkham asylum arkham city e ovviamente il titolo di questo nuovo gioco non si conosce nemmeno ovviamente non si sa nemmeno se sarà proprio questo il gioco che dovrà uscire infatti però la casa di produzione di batman arkham city arkham asylum non è una rock steady se non sbaglio rock steady non ha fatto tanti giochi per quel che so io non vorrei dire una cosa non ha fatto tanti giochi ma quei pochi che ha fatto sono stati fantastici sì come come un'altra casa la quantic dream eh io non le conosco quelli che hanno fatto ivy rain hanno fatto probabilmente un solo gioco però è un gioco di qualità o anche la noir che adesso ha chiuso la quelli che hanno fatto la noir davvero perché la noir aspetta che non mi ricordo come si chiama te lo dico subito intanto nico è andato a prendere un attimo il gioco team bondi perché hanno chiuso perché costringevano sono stati denunciati perché costringevano a lavorare i dipendenti più di 12 ore al giorno ah hanno fatto bene team bondi ha chiuso ed è stato acquisito qualche linea rimaneva da dalla rockstar vabbè la rockstar ha sempre fatto comunque capolavori vabbè sono pieni di soldi vabbè però saranno pieni di soldi ma almeno ci lavorano bene sui videogiochi non come alcune case di produzione io non le conosco però alcune che gli escono i soldi dal culo e ti sforano delle cagate assurde come la electronic arts beh no non sempre vabbè ho visto dei videogiochi tipo anche solo per PSP vabbè che è una console portatile però tu non puoi fare una versione adesso ti parlo di nuovo di FIFA aspetta posso dire una cosa qua mi ero fermato un attimino perché se noi ascoltiamo bene i discorsi in questo punto potrebbero anche fare un piccolo spoiler su un futuro gioco di Batman un piccolo spoiler in questo punto solamente che mi sono esposto troppo e non sono riuscito a a far sentire bene tutto purtroppo sono un più o meno cos'è che diceva? dicono che c'è stata l'isola di Arkham la città di Arkham e poi cosa faranno non mi ricordo l'oasi di Arkham la villa di Arkham potrebbero anche essere piccoli spoiler per vabbè è improbabile che facciano un gioco dentro una sola casa no ma io non ho detto villa io ho detto quello che mi ricordo io ho sicuramente detto sbagliato due facce sì infatti in questo punto dovremmo cercare di mettere due facce per finire completamente il gioco poi ci saranno ovviamente tutte le missioni secondarie però però non le faccio nella guida non le faccio troppo complicati no non sono per niente complicati sono troppo lunghe per fare dei video che la gente non segue nemmeno io preferisco terminare il mio gioco qui e dico basta vado avanti con altri video intanto progetti ce li abbiamo le idee ce le abbiamo inutile andare avanti con altri con questo gioco allora questo gioco allora considerazioni su Arkham 3 te avresti qualche idea? io penso che sia un nuovo devono cambiare un po' il gameplay no? perché dopo due giochi come adesso non voglio tirare fuori Assassin's Creed però come vediamo come da quello che si dice in giro dal Assassin's Creed 2 e poi gli altri due spin off possiamo chiamarli così Revelation e Brotherhood il 3 dovrebbe cambiare decisamente il modo di giocare il gameplay speriamo io invece avrei e io dico di Batman che devono cambiarci un po' il gameplay magari aggiungendoci qualcosa e innovando un po' il tutto ovviamente dovrebbero farlo a Gotham City secondo me se lo faranno a Gotham City però rimane sempre un piccolo problema dato che Joker è morto e ci sono poi se te finisci il gioco in modalità normale ti sblocca di nuovo la campagna in una modalità più difficile dove non ci sono i suggerimenti di quello che devi fare una volta che finisce anche quella campagna senza suggerimenti c'è Harley Quinn che praticamente parla a suo figlio nel senso c'è qualche spoiler che dice che Harley Quinn ha avuto un figlio si può notare anche da se andate a vedere qualche easter egg di questo gioco trovate che dentro l'acciaieria c'è un test di gravidanza positivo quindi probabilmente potrebbe essere qualcosa di incentrato sul figlio di Harley Quinn che potrebbe essere il figlio di Joker e quindi il prossimo il prossimo magari nel prossimo capitolo però quindi Batman sarà un vecchiazzo ma non credo proprio magari non sarà proprio così grandicello rientra sempre se si iscritte no? si un Batman con la barba e il cappuccio cioè per adesso non si usa ancora niente ovviamente per carità è tutto ancora da vedere sono tutte nostre supposizioni supposizioni è finito? e magari potrebbe essere si veramente potrebbero farlo a Gotham City ormai basta però si hanno detto che potrebbe essere un Arkham 3 magari ci sarà Arkham più nome a random Batman Gotham Arkham Gotham Road si limonano no Road to Arkham City ma che ne so io i titoli ovviamente finché non vengono annunciati non si sanno parte alcuni che ma non si sono mai baciati sti due no come nelle più grandi storie d'amore no perché adesso praticamente il gioco è finito così tu adesso puoi cambiare il tuo personaggio scegliere se utilizzare Batman o se utilizzare Catwoman e con Catwoman avresti anche ancora una missione principale recuperare il bottino rubato da due facce insomma devi cercare 16 detenuti che abbiano il tuo bottino e poi è finito ci sono le missioni secondarie e tutto il resto ed ecco i titoli di coda ed ecco i titoli di coda che fanno capire che anche questa guida è conclusa un altro Walkthrow è stato portato al termine questo è il eh ne ho fatti un bel po' di Walkthrow più di 20 no più di 20 no comunque già da tanto che faccio sto lavoro non è un lavoro un hobby un passatempo un emoz... dobbiamo trovare un suono per le versioni una passione una passione eh c'è 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 e diciamo che un altro Walkthrow un altro Walkthrow che è stato portato a termine io vi ringrazio sempre perché grazie a voi che avete seguito finora tutti i nostri video ci avete fatto diventare partner si siamo passati abbiamo fatto tanto no? tantissimo siamo passati da fare guide guide su giochi pokemon poi video comici io ricordo sempre che sono stato il primo italiano a completare la guida di Argold e SoulSilver col gioco che era in giapponese me lo ricordo me lo ricordo era stato un momento poi vedi che copioni l'hanno fatto a tutti poi vabbè siamo passati a fare anche l'ispettore rinco lo ricordi? è stato un momento divertente posso dire poi siamo passati a fare video cortometraggi cortometraggi no non sono inutili sono belli eh sì come no no vabbè a parte gli scherzi abbiamo fatto tante cose abbiamo fatto tante cose adesso siamo arrivati qui e anche grazie a voi stiamo studiando lascia stare il microfono stiamo studiando anche nuove cose ovviamente per intrattenervi sempre noi pensiamo sempre due volte alla magari un film porno con le tartarughe perché con le tartarughe? perché? dimmi perché con le tartarughe? perché l'altro giorno aiutavo una persona ho trovato che in cantina aveva una tartaruga vera imbalsamata perché? l'ho presa a calcio e gli ho sfondato la la corazza ma chi è? io una tartaruga ma perché? poi ho visto che dentro uscivano le mosche ok ok this this is a black screen no this is a pelliccia of a black nigger che razzista di merda no vedi un po' indietro c'è un altro ah è una chiamata persa è bellissima anche quest'altra parte dove l'hai visto? eh c'è scritto nel gioco dove te senti perché alcuni estereghi di questo gioco sono belli Joker te non lo senti adesso perché stiamo parlando ma c'è Joker che canta una canzone facendo intendere che l'unico amico di Joker è Batman che Joker considera Batman come un suo amico lagrime di sangue lagrime di cocodrillo no è lagrime di dolore che è la divina commedia e vabbè la divina commedia è sempre bella è sempre bella stiamo cazzeggiando sui titoli di conta dai leggiamo i nomi no con voce sexy sono troppi da leggere Engine Programmers John Gay si te ti sei subito beccato no dai Lead Player Programmer sai questi qua poverini come vengono maltrattati a piccoli minchia davvero qui tipo ma poi genitori dove cazzo l'avete preso il cognome? nella nostra città no c'è il furgoncino no di quello salami gay oppure c'è il furgoncino pasticceria zoccola si vabbè ma poi no scusami ti chiami già gay no puoi andare a fare il salumiere ma che c'entra? tieni in mano le salsicce ma cosa basta io dopo questa guida non ne registrerò più con Nicolas Lead God Dwayne Rock o che cazzo Dwayne Rock Dwayne The Rock John ci ha lavorato lui scherzi e praticamente io adesso ho finito il fiato e non avrei non avremmo più niente da dire per ora perché ormai è finito e non c'è quasi più niente da dire e boh non c'è più niente da dire boh non c'è più niente da dire ma sai com'è il sole è cuocente la sabbia è calda e poi mi esplode il primo piede si ovvio nella latrina della vergogna fammi sentire come si sente nella latrina aia capelli nella latrina della vergogna aia 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 emozioni uniche sei tu adam urbano sarà di sicuro un italo inglese e americano anche americano anche americani se volete proprio sapere volete sapere quale sarà la mia prossima guida non ve lo dico aia 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 anche tanto devo ancora registrarle quindi è inutile che lo dica adesso se poi devo registrarle tra tre anni aspetti cosa di farti i ditalini al piede stavo grattando al piede io ti ricordo che ho problemi dermatologici dell'epidermide vuol dire pelle lo so abbiamo sette strati di pelle noi davvero si ecco io l'altra volta li ho tagliati tutti guarda che bella cercatrice ah che bella brava la vorrei qui se vuoi te la faccio io mettiti vicino al microfono ti devo dare uno schiaffetto no ouch mettiti tu no tieni la mano ma perché poi dammi qua adesso ti metti la mano no nico la mano vabbè l'ha uccida la tua mano stupida l'ha uccida non l'eserlo non ti prego fai una cosa vai a premere es che fa vedere quanto manca che non ne ho idea quanto manca più o meno 5 minuti 5 minuti si siamo a 16 minuti ancora no 4 minuti più o meno 21 minuti ah 21 minuti si quindi siamo ancora qui e e abbiamo ancora da parlare per 4 no mi devi toccare si e tanto io li concina lì di steam che continua ad andare avanti senza che io gli abbia chiesto di fare un cast ma steam quando si scarica un gioco io lo metto in pausa a casa ma quando mi riconnetto di nuovo parte da solo sci sci ecco perché mi sembrava che ogni tanto la connessione era un po' più lenta comunque è utile non andare così siamo più liberi di muoverci vediamo meglio vediamo meglio vediamo meglio perché c'ha belli occhiali ma anche perché su un televisore 32 pollici sony bravia vaffanculo stai facendo pubblicità occulta vai a premere su steam tanto ti voglio far vedere delle cose allora apri steam allora si su quello lì sicuramente ci sarà prima ovviamente me lo voglio finire vai su negozio no libreria vai su gioco rise and 2 cos'è un gioco di pirati si qualcosa del genere vai su libreria libreria clicca su download tutti i giochi sicuramente ci sarà sul primo il gameplay sul primo che ho e su quello lì che sta scaricando e questo no quello lì no ovviamente questo e questo no quelli lì no no l'altro sarà su quello ma si su quelli che ti avevo già detto ma quindi fra quanto abbiamo finito di di far cosa di scaricare 24 minuti ma credo che perché perché adesso mi va a 500 non lo so ma prima andava a 23 kb oh la mia connessione io ho scoperto che la mia connessione tiene il picco di 84 kb al secondo che bastardo mamma mia che birbante di una connessione allora comunque comunque aspetta 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 no no perché te mi intase la cronogia vaffanculo se mi dai una penna ti scrivo i gameplay che devo fare perché non ho voglia di annunciarli in live li annuncerò solamente quando li dovrò cominciare e ovviamente saranno curati benissimo cercheremo di fare più cose possibili mi sono fatto perfino degli schemi per quanto parti ci potrebbero essere per ogni gameplay quindi professionali siamo non so perché canticchiavo la canzoncina dei pokemon sul primo percorso ma non so mi vengono in mente le canzoni a 8 bit di quei vecchi giochi beddy beddy da matti beddy come il è lì come il mio culetto andiamo a sentire gli effetti per sé pirlo senti qua senti qui piantala imbecile che schifo allora i gameplay ci saranno su ah ci sarà il gameplay di donald duck adventure no madonna su gamestop ho visto paperino operazione papero volevo ricomprarmelo c'avevo playstation 2 mi divertivo come un imbecile questo qua ah si the the adventure no è sbagliato no non è revelation è vero stavo confondendo con un gioco che non mi piace poi questo qua sicuramente se ovviamente io prima di farli dovrò finire prima la storia io 334 asini correvano ma questo qui questo qua vabbè lo sai ma che cazzo lo scrivi lo so è incredibile anche questo incredibile vero questo vabbè da 25 anni che lo dici eh vabbè sì però fai una guida anche a questo questo qua allora il terzo che ti ho scritto potrebbero essere 18 parti da almeno 20 minuti cos'è 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 non riesco a leggere se mi facessi finire fare le avventure di Gigi Lama tu sei un barbiere che devi sfregiare la gente ah bello beh veramente bello come gioco immagino che contenga molto amore al suo interno ma non diamo molto spazio cosa può sembrare secondo te una faccia così ma faccia lo stesso adesso vediamo che cosa il disegno di cagare ma niente non c'ha senso è un naso no invece ti sembra chi è che ha le palle sotto il naso ve lo dici vabbè se te pensi sembra quelle cose non è colpa mia comunque ragazzi anche quest'altra parte è finita il gameplay è finito un saluto da Teo e un saluto da Nico e noi ci arriviamo al prossimo gameplay o al prossimo video sempre su questo canale Pori con Zazeta Wallet Rogue grazie mille per aver seguito questa guida vi ringraziamo per tutto il feedback che ci avete dato non era tantissimo è sempre accettabile ragazzi ciao 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 Batman stacca stacca tu io scappi io scappi via io scappi